Sulla strana avvertenza in atto sul servizio Scuola Bussaragusa, la CGL chiarisce di non essere affatto contraria al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, offerto dall'impresa agli operatori e accolto da tutti come ottimale risolutivo, in un incontro svoltosi al Comune in seguito alla mancata richiamata in servizio di sei di loro. La CGL precisa di essere semplicemente intervenuta dopo quell'incontro su delega dei sei lavoratori, propri iscritti, e di essere pronta al confronto con l'impresa sulla proposta del tempo indeterminato, per capire cosa comporti in un servizio della durata di otto mesi l'anno e quali tutele ci siano in caso di cambio di appalto. La CGL, in proposito, dice di conoscere bene le criticità di questo settore nel quale, paradossalmente, i lavoratori possono essere penalizzati perché privati nei mesi di inattività di retribuzione e contribuzione. E la CGL lo spiega in modo chiaro. Il meccanismo che si attiva in questi casi è quello della sospensione senza retribuzione, prassi diffusa ma non prevista dalle norme e dai contratti. Lavoratori, spesso privati del licenziamento, che darebbe loro l'accesso ad ammortizzatori sociali, a vantaggio delle imprese, cui il tempo indeterminato attribuisce il vantaggio a disgravi fiscali e il licenziamento comporterebbe un costo. Fin qui la nota della CGL che non chiarisce però perché i suoi sei iscritti si siano perfino rifiutati di prendere visione della proposta di stabilizzazione e nel frattempo abbiano scelto una tutela legale che riconduce agli interessi di un'altra impresa, quella che ha espletato il servizio dal 2010 al 2016, esattamente nel modo in cui ha lamentato la CGL. Assumere lavoratori a tempo indeterminato, avvalersi degli sgravi e poi costringere i lavoratori a mettersi in aspettativa non retribuita nel periodo di inattività. Questo è avvenuto per sei anni senza alcuna avvertenza rispetto ad un'impresa che ha espletato il servizio in modo illegale e abusivo, per la complicità degli uffici comunali che, attestando il falso, hanno coperto questa situazione di illegalità. Senza dire che quell'appalto fu aggiudicato all'impresa il cui titolare risultava condannato per returbativa d'asta in un precedente del tutto simile. L'impresa attuale, invece, in quell'incontro tra le parti al Comune, propose la stabilizzazione in cambio della disponibilità degli operatori a formarsi nei periodi di inattività, proprio al fine della continuità del rapporto e della retribuzione. Quindi una situazione del tutto diversa da quella avvenuta in passato, lamentata oggi dalla CGL, ma rispetto alla quale non si ricordano apposite, specifiche vertenze. Il tema è generale, il problema, immutato e costante. Nei termini in cui è stato posto, invece, rischia anche con la buona fede della CGL di apparire finalizzato a scommettere su un avvicendamento di imprese e a preservare l'interesse di chi verrà ad avvalersi degli sgravi, che se poi fossero quelli dei sei anni 2010-2016 sarebbe anche la prova del perfetto ritorno a quella prassi poco attenta agli interessi dei lavoratori che la CGL giustamente vorrebbe impedire, appunto.